Benvenuto nel piano compensi di Rippling, ti voglio presentare Joe, è un ragazzo come tanti. Alle 7 di questa mattina è suonata la sveglia del suo telefono. Reduce da una notata fuori fa per spegnerla quando riceve una foto della notte precedente con la sua ragazza. Entra su Facebook e la condivide, facendo partire il suo primo Ripple. Riceve anche una notifica da Clash of Clans che lo invita a difendere il suo villaggio da un imminente attacco. Dopo altri 10 minuti posta sul suo diario di Facebook un post che dice «Ho vinto ancora!» 245 amici sono stati notificati ed il nuovo Ripple è partito. Ora Joe è in ritardo e sta andando al lavoro. Di colpo si ricorda che due settimane prima aveva scaricato l'app World with Friends e che ne aveva parlato con suo fratello, il quale aveva subito imitato la loro mamma. Ora Joe non lo sa, ma grazie al passaparola anche 13 amici di un suo fratello hanno scaricato l'app. Per non fare tardi al lavoro Joe ora sale in macchina e inizia a guidare, accendendo Spotify, un'app che ti permette di ascoltare musica gratuitamente e di condividere con i tuoi amici di Facebook. Proprio mentre Joe sta guidando verso il lavoro, alcune persone hanno iniziato ad ascoltare la stessa canzone che ha condiviso, facendo partire un nuovo Ripple. Joe ha già fatto partire 4 Ripple promuovendo già 4 aziende nel giro di pochi minuti dal suo risveglio. Durante il resto della giornata riceve il 67 mi piace alla foto con la sua ragazza, 67 persone che automaticamente hanno condiviso sulla propria bacheca questa immagine. 19 persone hanno deciso di provare Clash of Clans, mentre altre 42 persone hanno scaricato World with Friends. Oltre 72 dollari sono già stati spesi nell'acquisto di app. 17 persone, prevenienti da 4 paesi diversi, hanno acquistato il nuovo singolo di Justin Bieber, semplicemente perché è partito un Ripple da Joe. Tutti i giorni ognuno di noi fa partire moltissimi Ripple Effect. Questo fenomeno fa arricchire incredibilmente i proprietari di queste app. Clash of Clans incassa oltre un milione al giorno, grazie ai pacchetti acquistati all'interno dell'app. Facebook vale oltre 60 miliardi, grazie alle pubblicità. E Google? Loro valgono oltre 300 miliardi. Nessuno di questi ti paga per quello che fai, e né perché sei lì. Queste compagnie non credono che sia giusto pagarti per le persone che gli porti. Rippling è diverso. Come sai, la missione di Rippling è di poter tracciare i Ripple Effect, che partiranno da te ogni giorno, ed ovviamente farti guadagnare per questo in modo davvero innovativo e divertente. Ecco di cosa parliamo in questo video, di come sarai ricompensato. Quindi presta attenzione a questo video, perché potrebbe cambiare le tue finanze per tutta la tua vita. Appena ti iscrivi a Rippling, sarai considerato uno spettatore. Appena inizierai a far partire il tuo Ripple Effect, diventerai automaticamente e gratuitamente un fan. Probabilmente farai l'upgrade a Super Fun, con 69 dollari e 95 dei fee annuale, non commissionabili, per monitorare i tuoi potenziali guadagni. Per la prima volta nella tua vita potrai vedere i dettagli dei tuoi Ripple Effect intorno al mondo. Appena ti renderai conto della tua influenza nel mondo, farei una scelta intelligente. Deciderai di entrare nel Rippling Rewards Program, così da essere pagato per tutta l'attività che creerai intorno al mondo con il tuo Ripple. Per fare questo ci sarà un fee di 25 dollari, non commissionabile mensile. Questo ti permetterà di guadagnare illimitatamente in tutto il globo. Ora fammi spiegare il piano dei compensi, ma prima lascia che ti ricordi che in questo gioco non devi focalizzarti sui dettagli, a quelli ci pensiamo noi. Quando ti focalizzerai sulle giuste cose da fare, il tuo Ripple crescerà e quindi anche i tuoi compensi. Ricordati sempre che in qualsiasi momento il tuo scopo viene riassunto da questi tre step. Step numero uno, invita gli amici a diventare fan. Step numero due, aiuta i fan a diventare player. Step numero tre, aiuta i player a diventare altri fan, così da condividere contenuti, applicazioni, prodotti e le cose che ami con tutti, così che quando i tuoi Ripple compreranno, tu sarai remunerato. Prima che ti mostri come sarai pagato, lascia che ti spieghi quanto sarai pagato. Ti basterà fare poche piccole cose tutti i mesi per poter letteralmente duplicare i tuoi guadagni mensili dentro Ripple. Ecco cosa dovrai fare. La prima cosa sarà invitare almeno 5 fan in Ripple. Questo significa che si iscriveranno a Ripple gratuitamente e che si logheranno nell'applicazione almeno una volta al mese. Da questo momento tu diventerai un pro player ed inizierai ad essere pagato. La magia arriverà quando diventerai un MVP, perché le tue commissioni si duplicheranno magicamente. Chiamiamo questo processo doubling up. Ogni volta che i membri dei tuoi Ripple scaricheranno contenuti, compreranno prodotti, scaricheranno applicazioni e molto altro. Tu sarai remunerato in punti, che significa che riceverai dei pagamenti. Quando almeno tre dei tuoi fan compreranno qualcosa, i tuoi punti si raddoppieranno, per cui guadagnerai il doppio, su tutti. Ora lascia che ti spieghi il meccanismo. I tuoi fan sono le persone che hai personalmente invitato e che fanno parte del tuo primo Ripple. E quando questi inizieranno partirai il tuo secondo Ripple. E poi il terzo, il quarto e così via. Vedrai quanti Ripple arriverai in giro per il mondo. Ora hai bisogno di attivarti per le commissioni su questi Ripple. Per esempio, se hai due player nel primo Ripple e un totale di 10 fan, prenderai il 10% su tutto il primo Ripple. E su tutto il secondo Ripple. Quando avrai almeno 4 player nel tuo primo Ripple e un totale di 50 fan, sbloccherai altri due Ripple. Quindi prenderai il 10% sul terzo e sul quarto. Quando avrai 6 player nel primo Ripple e un totale di 150 fan, sbloccherai pagamenti del 10% sul quinto e sul sesto Ripple. Con 8 player nel tuo Ripple e 1000 fan, sbloccherai il settimo e l'ottavo Ripple. Anche loro per un 10% ciascuno. Quando avrai 10 player e 2500 fans, arriverai fino al decimo Ripple. Anche sul nono e sul decimo, guadagnerai il 10%. Quando arriverai a questo livello, dovrai festeggiare perché avrai raggiunto il 10% su 10 livelli di profondità e i tuoi guadagni saranno decisamente notevoli. Continuando a crescere, potrai qualificarti a livello All Star, sbloccando dei bonus speciali. Bene, quali sono i bonus di un All Star? Prenderai tutti i bonus Unclined, ovvero quelli di cui le persone nel tuo Ripple non hanno ancora diritto. Per esempio, se uno dei tuoi fan diventa un player facendo un power up e prende fino al suo quarto Ripple, te prenderai quelli che sarebbero i suoi guadagni se fossi già qualificato per gli altri 6 Ripple. Ci saranno migliaia di offerte che si muoveranno dentro Ripple. Ogni volta che le persone scaricheranno gratuitamente oppure pagando questi prodotti, tu riceverai dei punti commissione, che diventeranno soldi. Riceverai un bonus chiamato l'Holiety Rewards Program, tutti i mesi per ogni player pro che avrai nel team. Questo ti permetterà di guadagnare moltissimo per costruire i tuoi Ripple. La maggior parte dei prodotti e dei servizi venduti da Ripple fanno parte dell'Holiety Rewards Program, di cui abbiamo già parlato, ma in Ripple ci sono altri tipi di offerte, offerte che sono chiamate coaching offers e guadagnerai commissioni in modo leggermente diverso su queste. Quando qualcuno dei tuoi Ripple decide di acquistare un coaching offer, non prenderai il potenziale 10% su 10 livelli, bensì fino al 60% quando i fans dei tuoi Ripple prendono un coaching offer. C'è una spiegazione ancora più completa dentro il cerchio di Ripley che ti spiegherà esattamente come e da dove riceverai le commissioni. Mentre continui a far crescere i tuoi Ripple in questo momento e mentre la viralità del web ti porterà ovunque nel mondo, avrai la possibilità di qualificarti per dei bonus extra, come iPad e cash bonus. Adesso torniamo alla storia iniziale, con Joe. Questa mattina Joe si è svegliato con un sorriso stampato in faccia. Quando la sveglia del suo telefono ha iniziato a squillare, qualcosa è andato diversamente. Questo perché sa che da oggi, ogni volta che condividerà con il mondo qualcosa, lanciando un Ripple Effect in tutte le direzioni, verrà remunerato, perciò aprirà il Ripple in sul suo smartphone e troverà una nuova offerta. Un'applicazione, un porta iPhone, smartphone, uno smartphone, un orologio, un tablet. Ma questa volta decide di acquistare un paio di cuffie Beats by Dream, condividendole così davvero un notevole sconto. Condividendo le cuffie su Facebook, mentre ancora nel letto, avrà scatenato un effetto Ripple che porterà 4 dei 245 amici che ha ad acquistarle nelle prossime 48 ore. Prendendo un caffè con Mark, gli mostra una nuova applicazione appena uscita e dopo 30 minuti riceve una notifica di acquisto di quell'applicazione e Joe viene remunerato. Dopo pochi minuti Joe chiama Susie e le parla di questo nuovo incredibile movimento chiamato Ripple. Susie, in pochi minuti, accetta l'invito di Joe ed inizia a scatenare il suo Ripple, scatenandone un altro. Joe non sta facendo niente di diverso rispetto a prima, con la sola differenza che viene remunerato per quello che già fa. Prima di andare a letto, Joe controlla il suo Ripple un'ultima volta. Susie ha invitato 15 persone durante la giornata ed è diventata player. Una dei suoi fan ha acquistato un biglietto per il cinema, quindi sia Joe che Susie sono stati remunerati facendo tre semplici cose. Le stesse tre identiche cose sulle quali ti devi focalizzare per vincere in questo gioco. Step 1. Invita fan. 2. Aiutali a diventare player. 3. Aiutali ad invitare altri fan. E quindi continua a fare quello che hai sempre fatto, condividi con i tuoi amici giochi, applicazioni, film, prodotti, contenuti e molto altro ancora, ma questa volta verrai rimunerato per sempre. Quindi diventa un player ed inizia a sviluppare il tuo Rippling adesso. Grazie a tutti.